come ti chiami pietro fulvio domenico quanti anni hai 11 9 e mezzo 7 8 che vuoi fare da grande perché voglio costruire la casa dei miei soldi e lei è martina che ti piace di lei gli occhi mi piacciono le sue scarpe le sue pali le occhi e le gamine tangibilità sulle capi tutto per me la bambina e ora falle una carezza falle una boccaccia e ora dalle uno schiaffo uno schiaffo forte uno schiaffo dai no 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 e perché no perché le femmine non ci picchiano perché così si fa male e perché Gesù non vuole far picchiare prima cosa è bellina e non glielo posso dare perché è una ragazza perché sono controlla la violenza se anche le donne non si chiudevano toccare nemmeno con un fiore e perché è brutto oppure con un mazzo di fiori non si chiudevano ecco perché sono perché sono non si chiudevano ecco e la posso dare sulla bocca o sulla guancia? Grazie.